Mi chiamo Valentina Sperti, mi occupo di comunicazione presso Fifth Ingenium e oggi vi parlo di Mosaic. Mosaic è un kit di oggetti fisici, programmabili e personalizzabili, ma non solo. È anche un percorso formativo per docenti per offrire una didattica più inclusiva e più tecnologica. Il progetto Crew è un progetto finanziato da Fondazione Cariplo, che ha coinvolto oltre 70 progettisti, i quali hanno studiato soluzioni tecnologiche come Mosaic, che possano aiutare persone con disabilità nella loro vita quotidiana. Grazie a Mosaic si possono creare delle attività personalizzate che facciano emergere le risorse positive di ogni alunno, sia normotipico che disabile. Quindi parliamo di alunne e alunni con autismo, con disabilità cognitive o con fragilità, che possono svolgere delle attività apprendendo e divertendosi insieme a tutta la classe.